Pietro Antonio Colazzo è tornato a casa. Ucciso venerdì scorso da tre colpi di arma da fuoco in un attentato a Kabul, il corpo del funzionario dei servizi segreti di origini salentine è atterrato questa mattina all'aeroporto militare di Ciampino, accolto da familiari, rappresentanti del governo, vertici delle forze armate e della polizia. Sulla pista un picchetto interforze ha reso omaggio alla salma intonando il silenzio. La Camera Ardente è stata allestita al Ceglio dalle 15 alle 18, prima della partenza alla volta di Galatina, città natale di Colazzo. Nella piccola cappella, davanti alla bara, la foto della gente, su un lato la corona di fiori del Presidente della Repubblica e due corazzieri. Per volontà della sorella i giornalisti sono stati invitati a non fare riprese all'interno, a rendere omaggio alla salma il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, il Ministro della Difesa, Ignazio Larussa, che lo ha definito un eroe per il prezioso lavoro contro il terrorismo, e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Gianni Letta, che parteciperà anche al rito funebre. Alla Camera Ardente, anche Giuliana Sgrena, la giornalista rapita 5 anni fa in Iraq e liberata dall'agente del sismi, Nicola Calipari, la cui morte ricorre proprio tra due giorni. Con meno bombe e più intelligence, ha detto la Sgrena, si risparmierebbero tante vite umane. I funerali di Colazzo saranno celebrati domani alle 15 nel Duomo di Galatina, da Monsignor Vincenzo Pelvi, ordinario militare per l'Italia, e Monsignor Donato Negro, arcivescovo di Otranto. Già dalle 8 del mattino la chiesa di Piazza San Pietro sarà aperta a quanti vorranno rendere omaggio al feretro. Per tutta la giornata è stato proclamato il lutto cittadino.